e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono mister mario e oggi siamo qui su minecraft pocket edition ragazzi voi vi state chiedendo cos'è sta cosa in teoria io stavo registrando un'altra puntata che dovrebbe essere stata questa quando si è spento il telefono e mi ha cancellato la registrazione quindi dobbiamo partire da qui praticamente sto cercando di fare l'attore fel e sono arrivata a questo punto se proprio qui ragazzi adesso è arrivato a un lavoro lunghissimo e noioso che praticamente a questo vi consiglio se giocate in creativa e provate a riprodurre questa tour e fell di mettere la impostazione sempre giorno perché sennò ragazzi veramente sarà impossibile costruirla già è possibile così vabbè in pratica queste sono dicevo in pratica queste sono delle specie di sospensioni perché qua piove lì no vabbè non facciamoci domande comunque ragazzi qui vabbè non vi faccio vedere tutto taglio adesso fino a quando non finisco perché tanto questo è il penultimo il penultimo pilastro e io vabbè vi lascio così e ci vediamo dopo ok ragazzi ho finito di fare questo e ora partiamo con la base cavolo ok allora praticamente si prende questo cubo di roccia e si mette qui così alternato facendo attenzione si è laggato di brutto facendo attenzione aspettate un attimo ecco qui ok facendo attenzione a non sbagliare ok ok ragazzi ok e si fa vabbè così per tutte le cose le parti ok così poi di qua si fa una specie di archetto sempre se riesco a farlo tipo così ok così va benissimo no non va bene per niente ragazzi quindi qui non facciamo questo archetto lasciamo stare così ok va bene così va bene lo facciamo anche così da questa parte vi lascio un attimo così ok ragazzi sì ok ok così guardate poi entriamo qua dentro dove praticamente ci sarà il soffitto quindi qui dobbiamo chiudere così e lasciamo qui a croce guardate perché adesso in mente di fare una piccola cosa e poi l'ultimo probabilmente ragazzi non lo faremo tutto oggi la costruzione e poi avevo intenzione di fare no non questo prendere al posto della legna prendo quasi quasi i blocchi di vetro e faccio così ecco qua proprio come volevo io quindi qui ragazzi si entra e si vede si può vedere di sopra si può intenzione di fare una piccola cosa che cosa mi direte cioè avevo intenzione qui di chiuderlo intanto così poi vabbè fare tutto il contorno così vabbè lo taglio ok ragazzi così abbiamo chiuso così ok intanto viene così si proprio come volevo adesso facciamo così ok ragazzi proprio così ok così ragazzi e andiamo a chiudere poi aspettate che ho sbagliato andiamo poi a chiudere il tutto so che è un lavoro difficile per poi alla fine viene molto bello tac 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 e poi vabbè così esce così e ora fate andate fate andare a pari questi con questi e poi vabbè vabbè lo fate da tutte le altre parti ok ragazzi esce così esce così e qua come vi dicevo c'è questa finestra che fa a guardare giù così ok ragazzi adesso praticamente direi di provare a fare tipo così guardate ora fare delle specie di 1 2 1 2 1 2 e 1 2 stessa cosa dalle altre parti vi spiego perché perché la tua fello vabbè non finisce ovvio qua ci credo ovviamente qui adesso ci saranno le altre cose dai ragazzi non riesco a mettere un cubo un cubo ok farà così vabbè completeremo qui prendiamo delle scalinate prendiamo come si chiamano le scalinate scusate le sbarre di ferro e facciamo così tac 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 e anche dalle altre parti tac 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 e poi vabbè anche di qua tac 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 e poi si fa così guardate tac 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 ok e da tutte le altre parti così magari se uno si vuole suicidare non ce la fa ok ok va benissimo questa ragazzi era la prima parte della costruzione forse saranno o due o tre dipende bene ragazzi se il video è piaciuto lasciate un commento mi piace qua sotto commentate iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao